Ben ritrovati da Simone Mardone, un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Radio Civite in Blu. Violenza sessuale su una dodicenne, arrestate tre persone, la notizia la batte l'anza, i fatti si sarebbero verificati a fondi durante il lockdown. I tre accusati del reato erano ospiti della casa dove c'era anche la ragazzina e approfittando dell'assenza del padre per ragioni di lavoro, avrebbero abusato sessualmente ed in diverse occasioni della minorenne, invitandole a non raccontare nulla. I fermati e la stessa vittima sarebbero tutte di nazionalità indiana, mentre le indagini sarebbero partite dalla denuncia della madre. La regione Razio corre ai ripari, inserata la notizia che era nell'area da varie ore. Nella notte tra venerdì e sabato entra in vigore la misura esemplificata dai media come il coprifuoco, dalla mezzanotte alle 5 del mattino. In realtà si tratta di un obbligo a non stare in giro se non per validi motivi quali lavoro o questioni legate alla salute. Il provvedimento entra in vigore dal 23 ottobre. Si torna dunque ad utilizzare l'autocertificazione che è possibile scaricare anche dalle nostre pagine social. Covid-19, nuovo record di contagi in provincia di Latina. Nel bollettino di ieri dell'ASL di Latina ha superato la soglia psicologica degli oltre 100 nuovi casi in sole 24 ore. Unica nota positiva, se così si può dire, in questa giornata così nera sul fronte della lotta al virus, il fatto che sembrerebbe che tutti i casi sono associati a link epidemiologici già noti, con il tracciamento che, malgrado i numeri importanti, sembrerebbe reggere. Soffre in particolar modo il nord della provincia, ma vengono riscontrati i casi anche nel sud, con 4 a Minturno, 5 a Formia, 2 a Fondi e 1 a Santi Cosme e Damiano. L'unità di crisi Covid-19 della regione Lazio nella giornata di ieri ha reso noti i dati di verifiche sulle scuole. Dall'apertura fino a ieri in tutto il Lazio sono stati effettuati quasi 70.000 test sierologici al personale scolastico, docente e non docente. Le ASL sono intervenute in oltre 1.000 istituti, le scuole con focolaio sono state 75. Il totale dei casi positivi riscontrati sfiorano i 2.000, di cui quasi 1.700 studenti, in prevalenza nelle scuole secondarie e superiori. Le scuole chiuse per sanificazioni dalle ASL sono state 9. Mercoledì mattina Gaeta e i carabinieri hanno denunciato a piede libero un giovane di 20 anni, questo accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane sarebbe stato beccato dai militari mentre cedeva a un ragazzo ancora più giovane di lui circa 6 grammi di hashish. Immediata è scattata la perquisizione personale che ha fatto rinvenire ai carabinieri ulteriori 8 grammi di sostanza stupefacente. La droga è stata sottoposta a sequestro mentre l'acquirente è segnalato alla prefettura. Manca poco al primo consiglio comunale dell'era di Beniamino Maschietto Sindaco. Sabato si riunisce la nuova assise ma a fondi non si parla che di totoassessori che vanno di pari passo con il ruolo molto delicato e altrettanto ambito di presidente del consiglio comunale. In poll per quello da vice sindaco invece Vincenzo Carnevale già vice presidente della provincia e mister preferenze alle ultime elezioni e Claudio Spagnardi assessore all'urbanistica uscente. Entrambi dovrebbero trovare anche un posto sicuro nella nuova amministrazione in palio altre 6 poltrone considerando che 7 sono i posti in giunta a cui va sommato quello di presidente del consiglio comunale. Questa era la nostra ultima notizia. Prima di salutarci come sempre vi ricordiamo che potete visitare il nostro sito web radiocivitemblue.it e cercare i podcast da riascoltare come e dove volete sul portale spreaker.com. Un saluto da Simone Nardone e un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze radiofoniche. Grazie. Grazie. Grazie.